Annunciazioni in Toscana, viaggio espositivo attraverso l'iconografia di ieri e di oggi. È il titolo della mostra promossa dalla Diocesi di Pistoia e dall'Associazione Nazionale Città dei Presepi con la collaborazione del Comune di Pistoia, che vede esposte nella Chiesa della Santissima Annunziata di Pistoia oltre 200 riproduzioni fotografiche di celebri annunciazioni dal Medioevo al Rinascimento e anche di epoche successive, tra cui spicca la celeberrima annunciazione di Leonardo da Vinci conservata al Museo degli Uffizi di Firenze, accanto alle quali sono esposte altre opere in tema realizzate da artisti contemporanei. Si inaugura questa mostra che appunto vuole esaltare il mistero dell'annunciazione, dell'incarnazione del verbo attraverso opere d'arte stupende che non possono essere qui ma che sono qui attraverso delle rappresentazioni. E si fa nella Chiesa dell'Annunziata, riaperta al culto dopo tanti lavori e con grande soddisfazione, quindi anche un modo per rivalorizzare questa Chiesa molto bella per Pistoia e significativa anche proprio per la devozione a Maria Santissima portata avanti da secoli dai servi di Maria. Si inaugura questa bellissima mostra in un luogo importantissimo di cui recentemente si sono conclusi i lavori e di nuovo un luogo di culto è accessibile nel cuore del centro storico e si unisce a tanti lavori che insieme alla Diocesi e alla Fondazione Cassa degli Spanio abbiamo fatto in questi anni per recuperare luoghi sacri, luoghi di culto ma anche luoghi stupendi della nostra città. La mostra aperta a tutti è visitabile ogni giorno fino al primo aprile compreso dalle ore 16 alle 19.